Si avvicina alla solennità in onore del fondatore e patron di Castellabate, San Costabile Gentilcore, seguendo i protocolli anticontagio. Il sacerdote della comunità parrocchiale di Castellabate, Don Roberto Guida, in collaborazione con il comitato festeggiamenti San Costabile, ha predisposto in forma ridotta le celebrazioni liturgiche. Quest'anno la ricorrenza verrà posticipata di un giorno, poiché nel 2021 e il 17 febbraio coincide liturgicamente con il mercoledì delle ceneri. Le celebrazioni si svolgeranno il 18 febbraio alle ore 11 nella Basilica, con la solenne cerimonia eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania. Il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri, ha inoltre predisposto con un'ordinanza sindacale la chiusura degli uffici comunali e degli uffici pubblici delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale in occasione della festa patronale della giornata del 18 febbraio 2021. Quest'anno, a causa delle restrizioni imposte dell'emergenza Covid-19, non sarà possibile organizzare iniziative collaterali o effettuare la tradizionale partecipata processione per le vie del borgo, ma sarà comunque momento di grande unione e fratellanza, poiché in ricorrenza del Santo Patrono è da sempre molto sentita per il legame profondo tra San Costabile e i suoi fedeli, dichiara il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri. Grazie a tutti.